secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie e siamo al terzo mese in cui mi ringrazierai sbagliando non mi mal non mi esplodo per un altro mese aspetta grazie mille misfit per il terzo mese thank you so much no? aspetta yeah trattino basso dimenticato mis mis misfit trattino basso misfit misfit tocca giocare a teken 7 con level up raga io adoro teken 7 però tipo non so quanto sarebbe interessante portarlo in live sinceramente doppia me dimenticata misfit grazie mille dip pezzo brutto per l'apparamento se anche tu sei un vero casino royale punto schiamativo telegram voglio il verde ti prego no raga no è bellissimo non facciamo partire le bet oggi niente bet perché raga oggi abbiamo una schedule da rispettare abbiamo un sacco di cose da fare ok abbiamo un sacco di cose da fare questo oggi non abbiamo tempo da perdere non abbiamo tempo da perdere in chiacchiere inutili oggi c'è content da fa uno perché vado a sbattere bimbo eccoci vuoi fare una cappiola? vuoi fare una cappiola? è in qua viene in qui è in qua ma perché è spaventato da me? quell'altra è la corona del masella che è del vincitore del pub su due corone diverse questa è palesemente della speedrun c'è scritto quindi questa corona alla fine della live la daremo a Mario mad no no Mario non può niente senza di me è oro vero certo che è vero senti qua ragazzi se la rivendessi eh altro che fare i sub goal per le cose mi comprerà tutto il mondo bro ok quindi ho scelto lei nello specifico per questa cosa insomma vedete e niente come vi dicevo mi ha spiegato a me salta a me salta 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 a me salta 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 ecco salta 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 Hey, don't let me down! Don't let me down, dragon! Come on, come on, come on! Oh! Oh! Oddio! 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 No! Togli quella maglia nera da davanti. Eh, perché, allora, il fatto che... Vogue, sei copertissima, c'è, ti giuro, sei copertissima. Guarda, sono più scoperta io adesso. È perché o tiro su, o tiro giù, cioè, non posso tirare su e giù, capito? Ma do, Vogue, come ti sta bene, cazzarola? Sei una fatina, sei Bloom delle Winx. Ti sta molto bene, Vogue. Molto, molto bene. Ti sta benissimo. Non stare, gobba. Non stare, gobba, dritta. Gamers! Gamers! True gamers! Huh? Hey! Anche tu sei un vero gamer? Anche tu sei un... Vero gamer? Yeah? Yeah? Are you a gamer? I am a gamer, Vano. Oh! Oh! Ah! True gamers! True gamers! True gamers! True gamers! True gamers! No 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 Bellate del cazzo se devi prendere il manga sotto è un casino Ma infatti gli ho messo Cioè questi qua, questo scaffale Sono quelli che io non tocco mai più perché sono tutti vecchi Questo è Kingdom Hearts, Duralara, Soul Eater, Rave Cioè sono tre bevecchie Quindi che cazzo ne frega Dicevo E domani Riavremo mio padre in live Ma domani Sarà più una cosa specifica Alla fine l'avete già conosciuto Quindi non c'è bisogno di rifare tipo una sorta di salottino con mio padre Perché tanto lo conoscete Nostro padre in live Vabbè mi mette un po' a disagio questa cosa Però vabbè non importa Tirare fuori i vostri strumenti di lavoro E ancora in bagno ragazzi nota semplicemente Ok Stanno usando rispettivamente Michelle Procreate Che è forse il miglior programma in assoluto per iPad per disegnare Se fate manga vi consiglio anche Clip Studio Procreate è molto comodo C'ha una fee Una tantum Quindi comprate l'app a 15 euro Poi è vostra per sempre Io non vedo più Michelle Eh lo so Perché mi è morto E le liner Esattamente E poi il suo sguardo è tipo Sto sredendo tipo così Ti hanno fatto del male Eh poverino L'hanno un po' maltrattato Non se lo meritava quel povero minato Anche secondo me non se lo meritava Comunque Dimmi tu vogliamo provare a disegnare? Proviamo a disegnare Come on baby yeah Il titolo di ogni live L'ora in poi Live di vocalità Certo Bravissimo Ci sarà anche un format nemici Eh quello di oggi a quanto pare Quello di oggi a quanto pare nemici Il titolo di oggi colpo del sole È sempre quello dei due titoli super clickbait Esattamente quello di ieri Quello di ieri non era per niente clickbait raga Ma io voglio far capire una cosa A parte che non ho mai messo In questi sette mesi Non ho mai messo un titolo clickbait in vita mia Cioè è sempre super contestualizzato Ha sempre super senso Per la cosa che ti mandano Ah ho capito Ho capito che intendi Semplicemente tu cominci con The Promised Neverland Però gli dici di dargli un finale decente No anzi Non facciamo così Io vorrei Avengers Infinity War Però con Nanny Che fa Thanos Data che fa Thor Mangaka che fa Erma Raga non state a capire Che cosa voglio fare io Possiamo usare solo il mondo di una fiaba Ma farla cambiare la storia Volendo Io ti direi ragazza che scopre Che c'è un mondo fuori dalla stanza Questo già ci sta Già è più figo Dove sei Mario? Che devo fare? Uh Non cadere Eh vabbè Uh Minchia Pro player bro Un mondo fuori dalla stanza